Stasera siamo qui a Montecchio dove a 77 anni fa è avvenuto un fatto acclatante, una polveriera che era proprio in questa zona qui, è stata fatta saltare, migliaia e migliaia di bombe sono scoppiate in un attimo, tant'è che l'abbaglio è arrivato da Pesaro a Urbino, si è visto il lampo di fuoco. Diciamo che erano quasi le 9 di sera, per il 1944 era già notte buia, considerando che le luci non c'erano, la gente tutta campagna e via eccetera, la chiesa non era qui, era in un'altra zona del paese, però qui è stato tutto spianato da questo terribile boato dove persero la vita 33 persone. E ancora oggi abbiamo parenti, amici, conoscenti, familiari di questa gente, forse anche dei figli piccoli di questi caduti che sono ancora vivi e dobbiamo mantenere alto il ricordo di questa bruttissima serata che poi ha lasciato oltre 33 morti, anche tantissimi invali, tantissimi mutilati, danni un po' a persone, cose, animali, via eccetera. Fu una tragedia per l'intera provincia, per questa vallata e Montecchio pagò un prezzo pesantissimo delle vicende della guerra. Poi non bisogna mai dimenticare che dopo quella vicenda ci fu una catastrofe della guerra proprio qui a fianco a Montecchio dove ci fu lo scoppio delle mine con il cimiterio degli inglesi, dei canadesi e di tanti altri morti. E poi passando nelle vicende della guerra al cimiterio altrettanto importante di Gradara. Ecco, io penso che bisogna ricordare per trasmettere alle nuove generazioni che la guerra è distruzione, è devastazione, è lutto, è dolore, è miseria. E poi l'impegno che fu veramente importante dei montecchiesi per ricostruire dopo quei morti che ci furono. Noi ricordiamo ogni anno e mandiamo un messaggio di pace.